Se hai problemi di udito, rivolgiti ad AudioPhone. Il nostro personale qualificato saprà proporti apparecchi acustici delle migliori marche, piccoli, discreti e tecnologicamente all'avanguardia, per darti il massimo delle prestazioni e del comfort. AudioPhone è garanzia di qualità. Oltre alle soluzioni avanzate per l'udito, applichiamo protesi acustiche e protezioni antirumore. Contattaci per un test gratuito dell'udito. AudioPhone, dal 1984, 1984, tecnici qualificati e soluzioni per i vostri disturbi dell'udito.